Buon pomeriggio e ben ritrovati con Unica Settimanale, la nostra rubrica di approfondimento giornalistico nella quale ripercorriamo i fatti principali di questa settimana. E come ogni settimana lo facciamo con il nostro direttore Giuseppe Di Silva che è qui con noi. Saluto a tutti i nostri amici web spettatori. Bene direttore, partiamo dai fatti principali di questa settimana nel nostro territorio, nell'area nord di Napoli. Perché circa una settimana fa, proprio sabato scorso, sono state effettuate nel territorio di Afragola, Casoria ed Arzano ben 5 rapine in un'ora e mezza. Un dato allarmante che sicuramente evidenzia una difficoltà di sicurezza sul territorio. Diciamo che stiamo vivendo un periodo particolare, secondo me determinato da alcuni fattori. Proviamo a dirne uno. Molto semplicisticamente possiamo dire che la crisi economica colpisce più fasce sociali. Quindi c'è una facilità di alcune fasce di immettersi in circuiti poco virtuosi e quindi di andare a finire nelle spide della criminalità organizzata. E di conseguenza per poter sbarcare il lunario alla fine si finisce con il delinquere. Non è una giustificazione, non troviamo niente di corretto in quello che stiamo raccontando come un fatto, ma insomma dobbiamo fare semplicemente una analisi di quelle che sono le cose che accadono intorno a noi. L'altra considerazione è quella che facevamo anche precedentemente, Tonia, e sai insomma quello che ci siamo detti, e cioè che probabilmente nelle nostre aree ci sono degli equilibri che stanno cambiando anche da un punto di vista della criminalità organizzata, ci sono degli equilibri che si stanno rideterminando, ridistribuendo e lo abbiamo visto anche con gli episodi feroci che sono accaduti a Melito in quest'ultima settimana, a Giuliano anche, a Giuliano, in pratica in tutta l'area a nord di Napoli. La riflessione che possiamo fare è che sicuramente c'è una fronda di criminalità organizzata che sta cercando di mettere le mani sulle nostre aree, probabilmente, secondo quello che possiamo comprendere dalle indagini che vengono compiute dagli investigatori, dagli inquirenti e via dicendo, probabilmente ci sono, come dicevamo, degli equilibri che si stanno riassestando. Questo porta purtroppo a episodi di criminalità che sono più presenti di quanto non lo fossero fino a qualche mese fa, a qualche anno fa. Dobbiamo tenere alta la guardia, insomma, sia noi che facciamo informazioni per il nostro ruolo, per quanto ci compete, sia lo Stato con le forze dell'ordine che fanno già tantissimo per il nostro territorio e che probabilmente in questo periodo dovranno essere ancora più impegnate per garantire la giusta convivenza civile a tutte le parti sociali che sono qui in causa. Anche perché, direttore, può essere un fatto anche strategico essersi inseriti proprio in questo contesto di profonda crisi economica e quindi tentare di, in qualche modo, far passare come messaggio sociologico invece un fenomeno magari di tipo criminale, criminologico? Sì, diciamo, forzando un po' la mano, io a voi sapete che io spesso dico, però lo diciamo con tutte le cautele del caso, spesso dico che la criminalità organizzata, la camorra in particolare, è una sorta di ammortizzatore sociale. Mettiamoci cento sottolineature sotto questa affermazione, voglio dire semplicemente questo, cioè che troppo spesso la criminalità organizzata si sostituisce allo Stato per consentire a delle famiglie di andare avanti, di sopravvivere, si danno soldi per dei ruoli ovviamente criminali che vengono messi in essere da giovani, giovanissimi e quant'altro. Sappiamo la storia, è inutile che andiamo a ripercorrerla. Quando chiaramente c'è un problema di crisi economica così pesante come quella che stiamo vivendo in questi mesi, in quest'ultimo anno, è chiaro che ci sono più persone che non sapendo come sbarcare il lunario finiscono nell'espire della, come dicevo in precedenza, della criminalità organizzata. Dobbiamo essere attenti tutti quanti noi a far comprendere però un fatto fondamentale, cioè deve essere lo Stato ad essere più presente sul nostro territorio, a dare delle opportunità per fare in modo che i nostri giovani possano in qualche modo sentirsi lontani dal fascino che purtroppo esercita la criminalità. Bisogna mettere anche sul piatto della bilancia il fatto che ci sono troppe famiglie che hanno grandi difficoltà economiche e quindi bisogna dare delle risposte il più possibile efficaci da parte dello Stato, da parte del Governo, affinché non ci trasformiamo tutti quanti qua in una zona di frontiera ancora più di quanto non lo siamo stati in questo periodo. Tra l'altro, direttore, noi abbiamo parlato anche in diverse regioni di redazione. Un altro fenomeno che probabilmente è correlato a questo è proprio la diffusione di nuovo sul territorio campano, in particolare in alcune zone di Napoli, del contrabbando di sigarette, che forse è una risposta sia da parte dei venditori, se così li possiamo definire, che dei fruitori, perché poi l'aumento del costo di sigarette comporta anche una difficoltà per chi acquista. Ma sì, noi qua abbiamo un doppio aspetto, giustamente lo sottolineavi anche tu in precedenza di riunione. E cioè, è chiaro che compaiono le famose bancarelle che abbiamo rivisto comparire nelle nostre anni. Dopo anni peraltro di assenza. Dopo anni di assenza, quindi si fa pensare che, insomma, in qualche modo forse lo Stato era riuscito a, in qualche modo, reggimentare il contrabbando e quasi ad annullarlo, possiamo dire. Oggi come oggi, che ci sono tantissime altre esigenze di controllo del territorio e c'è tantissima altra, come dire, parte di criminalità che ha bisogno di monetizzare il proprio impegno sulla strada, si finisce col recuperare anche il vecchio contrabbando, che peraltro, secondo alcune indagini anche sociologiche, era proprio il termometro per Napoli e per il meridione della povertà o meno della popolazione. Quindi più contrabbando c'era, più c'era difficoltà di, come dire, sbarcare il lunario. È nato il contrabbando, storicamente lo sappiamo, con gli americani, no? Quando ci fu la seconda guerra mondiale, nel periodo post... Dopoguerra, sì. Nel dopoguerra. E noi ce lo siamo un po' trascinati come fenomeno anche sociale, culturale, chiaramente negativo, intendiamoci. Ha dato anche spesso adito a diversi film, è diventata una parte dell'oleografia campana. Però questo non vuol dire che noi siamo i protagonisti di questo fenomeno. Il fenomeno è governato dalla criminalità, è governato da imprenditori internazionali che hanno interesse, oggi come oggi, di entrare in Italia anche con questi sistemi, che sono sistemi illegali, perché devono andarsi a conquistare dell'effetto di mercato anche da noi. Sicuramente, forse per concludere, perché poi non vogliamo entrare nei capili di questa situazione, si potrebbe dire che così come lo Stato sta facendo una campagna per lo scontrino, magari chi conosce questi sistemi, parlo anche però dei comuni cittadini, potrebbe evitare di alimentarli, semplicemente questo. Poi è chiaro che chi ne è competente deve svolgere il suo ruolo e non... Sì, è chiaro che qua c'è un po' di necessità, diciamo, di senso civico da parte di tutti quanti, quindi dobbiamo essere noi primi, ecco io poi su questa cosa dello scontrino sulla campagna diciamo che è stata fatta sugli evasori eccetera, ho una mia idea anche su Cortina e via dicendo, ho una mia idea, però noi dobbiamo essere noi primi cittadini a comportarci in modo corretto, quindi a chiedere lo scontrino quando si deve, a non alimentare i circuiti del falso anche con le videocassette e quant'altro, però dobbiamo anche renderci conto che molto spesso ci sono dei prodotti ai quali noi dobbiamo accedere perché ne fruiamo tutti i giorni che costano l'occhio della testa e quindi io non è che giustifico, però in qualche modo comprendo chi magari invece di andarsi a comprare il pacchetto di sigarette che oggi costa un'ira di Dio, se lo va a comprare alla bancarella, quindi questa poi è la camorra imprenditrice che sa governare certi meccanismi, comprende quando deve investire in certe cose o meno e quindi fa trovare la bancarella perché oggi magari dal tabaccare o la sigaretta costa X, dal contrabbandiere costa X meno Y, ma il contrabbandiere ci guadagna, insomma tutto il sistema ci guadagna, quindi consentimi di fare questa parentese, ecco mi è venuta in mente pensando a Cortina, a quello che è successo la scorsa settimana proprio con i Vip, che sono arrabbiati, blitz della guardia di finanza, eccetera, io dico che lo Stato deve fare di più, nel senso che noi non possiamo, noi cittadini, fare ogni volta una litigata con il commerciante, con il professionista, con il grande magazzino che non ci rilascia, o con il medico che non ci rilascia la fattura, bisogna organizzare, non possiamo fare una guerra su ogni cosa, noi cittadini, bisogna che lo Stato si attrezzi per fare in modo che questi soggetti siano automaticamente obbligati a emettere la fattura, lo scontrino e quant'altro, cominciamo a eliminare i doppi registratori di cassa, controlliamo queste cose qui e magari andiamo avanti con più semplicità. Peraltro direttore, permettimi questa piccola curiosità, io ho letto in questi giorni sul giornale che uno degli indici che sta utilizzando lo Stato, la guardia di finanza, per questi evasori fiscali, laddove non rilascino fatture e scontrini, è ad esempio nelle ristorazioni contare quanti caffè vengono consumati, la quantità di caffè che viene consumata, perché giustamente in un ristorante se è stato acquistato il caffè automaticamente sarà stato consumato il pasto, quindi prendono come punto di riferimento determinati consumi per poi risalire alla quantità di fatturato. Ma adesso per carità non è che dobbiamo buttare la cruce addosso ai commercianti e ai negozianti che pure loro hanno il loro... No, 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 assolutamente, io parlavo di trovare comunque dei metodi... Però bisogna trovare degli escamotage, dei sistemi investigativi che possano consentire alla guardia di finanza, all'agenzia di entrate e via dicendo di fare bene il loro lavoro, di avere gli strumenti legislativi per poter intervenire e soprattutto però di non costringere il cittadino alla delazione, perché la delazione secondo me è sempre qualcosa di poco conveniente anche da un punto di vista costituzionale, francamente a me non piace un paese dove io vado a denunciare il mio vicino perché non si comporta bene. La trovo una cosa fatta male. Ci sono dei sistemi che esistono a posta... Sì, di fronte ad una notizia di reato noi abbiamo il dovere civico di denunciare, non c'è dubbio, anzi, insomma, verrebbe meno anche la figura del giornalismo se non ci fosse la denuncia al momento opportuno, quindi da questo punto di vista qua sgombriamo il campo, però francamente bisogna fare in modo che ci siano dei sistemi investigativi, dei sistemi, un controllo più facile degli incroci bancari per esempio intestati a persone e società può portare ad una raccolta dati che consente di individuare effettivamente chi è vado e chi non è vado rispetto a quella che poi è stata la denuncia del singolo cittadino il quale peraltro potrà dire sì, quello a fianco a me insomma non mi ha fatto pagare lo scontri, ma figuriamoci se poi la finanza ce lo consentono gli amici finanziari, vanno poi ad indagare su questa cosa e veramente lo scontri di 2 euro, 3 euro, facciamo anche perdere tempo, poi c'è una propaganda secondo me anche sbagliata che non fa un'ora a chi l'ha messa in piedi perché non vorremmo che ci prendesse qualcuno che è stupido, queste cose qua sono cose che si potevano fare negli anni 60-50 quando c'era un tasso di scolarizzazione più basso, noi ormai siamo qua tutti bene o male più o meno scolarizzati, quindi vorremmo che certe tecniche di propaganda fossero un po' più efficaci e non si basassero su queste cose di bassa lega secondo me. Senti direttore, restiamo a Napoli e passiamo al grande amore dei napoletani che è il calcio. In una partita, tra l'altro una partita che il Napoli ha dominato alla grande, Napoli-Lecce vinta 4-1, il gol di Cavani e più propriamente la reazione di De Santis su quel gol ha stupito un po'. Ma insomma io non lo so, l'abbiamo detto anche nella trasmissione che noi facciamo scherzando con il caffè del tifoso, adesso diciamo una cosa un po' più seriamente, ritorniamo a quello che dicevo prima, a me la caccia delle streghe non piace, non mi piace nemmeno il processo all'indezione, cioè chiunque abbia giocato un po' a padone sa che le reazioni del campo sono determinate da delle dinamiche che noi non possiamo comprendere stando all'esterno, anche io indegnamente quando ho giocato a pallone mi sono trovato in certe condizioni, ricordo alcuni episodi, a 16 anni io per tre partiti consecutivi non ero stato capace di segnare neanche una marcatura, ero uno che più o meno segnava in quel campionato, finalmente quando poi alla quarta partita riuscì a mettere dentro la palla e vi la reazione che ha avuto De Santis, quindi insomma andare a dire che De Santis ha avuto quella reazione perché c'era la con Bin, fare entrare questi meccanismi, francamente non fa onore né a chi le mette sulla rete queste cose, né a chi poi approfondisce questi concetti, per me De Santis è una persona per benissimo e concordiamo con quando hanno fatto i nostri amici del gruppo, come si chiama, che se no me lo dimentico, o in vita mia, che sta su Facebook con la nostra amica D'Aria Puglia che ha detto De Santis capitano con il Bologna, concordiamo con questa iniziativa, la sposiamo e la sosteniamo a nostra volta. Bene direttore, allora passiamo al panorama internazionale perché comunque tiene banco la crisi economica europea internazionale, tra l'altro abbiamo visto che in questi giorni sono stati pubblicati dei dati in cui si parlava proprio del valore e del cambio del valore delle nostre banche, delle banche italiane nel corso degli anni e soprattutto in relazione alle banche straniere, quindi come abbiamo spesso denunciato anche in questa rubrica c'è stata molto probabilmente la volontà da parte di potenze straniere di svalutare, indurre quasi una crisi economica in Italia per aumentare i loro poteri di acquisto, anche sulle banche. Ma noi l'abbiamo detto indegnamente, modestamente da questa tribuna che la guerra che si sta combattendo nelle banche è il sostitutivo della terza guerra mondiale praticamente, perché ci sono delle dinamiche che ci fanno pensare a questa, abbiamo visto proprio nei giorni scorsi i mezzi di informazione che ci dicevano che il nostro patrimonio immobiliare si era svalutato perché a causa della crisi che abbiamo, il nostro patrimonio bancario si era svalutato proprio perché non riusciamo a tenere in piedi il meccanismo che determina l'economia e la grande finanza, addirittura un grande gruppo italiano, forse il più grande, l'Unicredit, facciamo nome e cognome, poteva essere acquistato la BNP Paribas che è la più grande banca francese con… Bruscolini come direbbero al conto. Esatto, visto che negli ultimi anni praticamente il valore di Unicredit si era di fatto ridotto del 20, del 30, 40, 50, 60, 70%, non mi ricordo più nemmeno. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che ci sono state delle operazioni speculative nei confronti del nostro paese per arrivare a mettere le mani in Italia da parte di gruppi internazionali che determinano le scelte della finanza mondiale. Dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo andare come ha fatto il nostro Presidente Monti, finalmente vive il nostro Presidente Monti che è andato dalla mercata e gli è andato a dire adesso noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso tocca a voi fare la vostra parte. Benissimo il Presidente Monti, glielo vado a dire ancora anche a Sarcosì, glielo dico anche con più durezza perché ha un aplomb inglese il nostro Presidente che insomma gli fa veramente a loro però bisogna essere più duri, glielo vado a dire con più durezza perché ormai ci siamo stancati, noi la nostra parte l'abbiamo fatta e adesso tocca a loro. Ebbene direttore, allora visto che siamo arrivati in chiusura di questa rubrica, ritorniamo sul territorio e vantiamoci se così possiamo dire di un evento che siamo riusciti a condurre a portare sul web a livello internazionale, stiamo parlando del concerto di Katia Ricciarelli che attraverso proprio le telecamere di Unica Channel è riuscita a portarla sul web e quindi abbiamo detto in tutto il mondo. Sì, abbiamo fatto secondo me una televisione nel nostro piccolo di servizio grazie all'impegno anche della Digital Movie che è la società di produzione di Unica Channel con il nostro regista Ettore Terribile Chianese, cosa abbiamo voluto fare con il concerto di Katia Ricciarelli? Dare un'occasione alle tante famiglie che non potevano andare in chiesa nella meravigliosa basilica di San Mauro a Casoria a seguire questo evento, abbiamo dato l'opportunità attraverso il web a tante famiglie con malati, anziani, diversamente abili e c'è di poterlo seguire. E' stato un esperimento che riteniamo di poter dire sia andato a buon fine, abbiamo avuto un successo, possiamo dirlo, ci facciamo una sviolinata da solo, ogni tanto fa bene anche questo e quindi siamo ben contenti di aver offerto questo ai casoliani, ma diciamo ai cittadini tra virgolette casoliani del mondo, un po' alla platea di quanti nel mondo amano il bel canto italiano. Se volete potete andare a cliccare sui nostri canali e vi rivedete l'anteprima nella quale noi abbiamo anche parlato un po' delle problematiche nostre del nostro territorio, successivamente avremo anche una sintesi del concetto e quindi abbiamo fatto secondo me una buona cosa nell'ottica di una televisione di servizio, manco fossimo la Rai, anche noi nel nostro piccolo facciamo di queste cose, quindi benvengano, speriamo di poterne fare altre, ringraziamo anche gli sponsor, ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha messo in condizione di poter realizzare questo, abbiamo messo noi un maxi schermo ricambiando la disponibilità dell'amministrazione comunale, speriamo di poter fare sempre meglio con il vostro consenso. Bene direttore, quindi con l'invito ai nostri web spettatori ad andare a vedere proprio registrazioni di questa diretta, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento la settimana prossima sempre con l'unica settimanale. Arrivederci.